Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è martedì 11 ottobre 2022. È una giornata uggiosa quella che si presenta, questa notte è ancora piovuto, almeno in provincia di Pesaro Urbino, poi vedremo le previsioni del tempo. Intanto iniziamo la nostra rassegna stampa come tutti i giorni con l'almanacco, il Santo del Giorno. Il Santo del Giorno eccolo qua, lo riconoscete tutti, è Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, il Papa di una carezza ai bambini, il Papa del pellegrinaggio a Loreto, il Papa della Luna, il Papa del Concilio Vaticano II che ha rinnovato la Chiesa, il Papa del dialogo, il Papa del sorriso, il Papa dell'ecumenismo, il diplomatico, il curato di campagna, il patriarca di Venezia. Un uomo, un sacerdote che si è fatto voler bene da tutti. Questo è Papa Giovanni XXIII. Vediamo ora le previsioni del tempo. Una situazione irregolare oggi su tutta la regione, con qualche piovasco possibile al mattino sulla costa, nel pomeriggio sui monti Sibellini. Il clima continua a mantenersi mite, le temperature oscillano tra i 17 e i 21 gradi, i 20 ispireranno sulle coste da una direzione di nord e nord-ovest, mentre nell'entroterra con una tensione debole da nord-est e le temperature sono ancora in calo, in leggero calo. Comunque, rispetto al trend della stagione, le temperature continuano a restare gradevoli, per fortuna, perché quando arriva il freddo, poi con il riscaldamento, sarà veramente un problema. E diamo un'occhiata anche ad una visione del nostro territorio. Guardiamo Baia Flaminia di Pesaro. Ebbene, l'immagine è scura e grigia, perché il tempo non è buono oggi sulla nostra regione. Vediamo la situazione verso il Colle San Bartolo, di là c'è Gabiciemonte, poi Gabiciemare e la Romagna. Questa è una zona della spiaggia, ovviamente, deserta in questa giornata. Ed ora, apriamo i giornali sulle notizie a carattere locale, a partire dal Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. E vediamo quello che preventiva il nuovo assessore ai lavori pubblici, Barbara Brunori. L'obiettivo è quello di rispettare i tempi e non perdere i fondi del PNRR. Brunori assume anche la delega ai lavori pubblici, oltre a quella che aveva. Cede l'ambiente, ma assume anche la viabilità, la mobilità. Sono ritardi da recuperare. Dunque, bisogna accelerare i progetti lasciati in sospeso, definire le priorità, attuare la copertura dei ritardi, osservare le scadenze per non perdere i finanziamenti. Queste ed altre sono le incombenze che vengono assunte ora dall'assessore Brunori. E ieri l'assessore Brunori così ha fatto un consuntivo di tutto quello che si appresta a fare in questo anno e mezzo di durata ancora della tornata amministrativa. Ebbene, tra le priorità hanno verato le scadenze imposte dal Waterfront in Sassonia, che prevede due interventi, uno all'Anfiteatro Rastat, l'altro al Porto, al Borgo Marinaro. Ebbene, quello dell'Anfiteatro Rastat partirà un po' prima, l'altro invece un pochino dopo, perché oltre ad un intervento di carattere edile, comporta anche un intervento di carattere culturale. Insomma, ci sono innovazioni di carattere tecnologico-culturale. E poi la ristrutturazione di Viale Battisti, che dovrebbe iniziare il prossimo anno. E ancora il Parco Urbano, nota dolente dall'amministrazione comunale, perché sta osservando un forte ritardo. Però viene stralciato, quindi procederanno con una procedura autonoma. La Casa del Custode, il progetto del Parco Arboria e la pista sportiva per le mountain bike. E poi Piazza Andrea Costa, che insieme a Piazza Marcolini, costituisce uno dei punti importanti di arredo nuovi della nostra città. L'area dell'ex Agip e poi Barbara Brunori ha menzionato anche Piazzale Amendola. Anche questa è una spina che è al fianco dell'amministrazione comunale per i ritardi, che si sono verificati. Per fortuna sembra che manchi soltanto un atto di servitù, che deve essere spedito all'Enel, perché quest'ultima attuile allaccio della centralina a tutto l'impianto che è sotto Piazzale Amendola per così ricevere l'acqua che in questo momento ancora allagga il sottopasso quando piove. Una notizia di cronaca. Tentano di truffare due anziani condannati in tre. Sono tre napoletani. Tre napoletani che avevano messo in atto una truffa nei confronti di una coppia di anziani. Suo figlio hanno detto che qui dai carabinieri è stato arrestato, non aveva, circolava senza il bollo d'auto. Non so se con il bollo d'auto scaduto ci si arresta, insomma bisogna vedere anche questa cosa. Comunque all'inizio gli anziani si sono preoccupati. E poi cosa hanno fatto? Hanno chiamato il figlio e hanno capito che non era detenuto nella caserma dei carabinieri, ma era tranquillamente al lavoro. E quindi sono loro che hanno chiamato i carabinieri, i quali hanno poi rintracciato i tre autori della truffa. Erano partiti da Napoli per ritirare l'oro, per ritirare il bottino, ma se ne sono andati con una denuncia. Sono difesi dagli avvocati Stefano Viche e Andrea Marcelli e sono stati condannati a quattro mesi un 27enne ed un 34enne, mentre a sei mesi un 52enne, che aveva delle responsabilità più importanti. Ed ora il Corriere Adriatico ci informa di una chiesetta di cui pochi sapevano l'esistenza, se non i residenti di Metauriglia. La chiesetta della cupa è a rischio per una pianta. Le radici hanno sollevato la chiesetta. Insomma, si tratta di un albero, un pioppo, che è cresciuto nelle vicinanze della chiesetta, è diventato molto rigoglioso, e le radici stanno danneggiando il piccolo fabbricato. Un fabbricato che non è secolare, ma è molto amato da tutti i residenti. I fedeli non si rassegnano di perderlo. Ecco perché magari sono stati disposti a raccogliere dei fondi per restaurare il piccolo edificio, ma intanto vogliono avere l'autorizzazione di tagliare l'albero, che pur essendo una pianta protetta, così dice l'amministrazione comunale, ebbene non può sacrificare la chiesetta. Insomma, qui bisogna decidere, l'albero può ricrescere, dicono i residenti, la chiesetta invece no. E poi abbiamo un lutto, un lutto particolare. Non è un personaggio importante, non è un personaggio famoso, non è un personaggio di rilievo. Era un povero che chiedeva la carità, ma era un personaggio amato da molte persone, chiedeva l'aiuto della gente nei pressi di Piazza Ammiani, a Fano. Ebbene, da un po' di tempo non si sapeva nulla di lui. E poi si è saputo che da quattro mesi era deceduto. Così, nella impassibilità di tutti, nessuno sapeva più niente di lui. Stazionava in Piazza Ammiani, arrivando da Cattolica, arrivava in treno a Fano, specialmente nei giorni di mercato, chiedeva qualche spicciolo. Ebbene, tra le persone che gli erano più affezionate, c'è anche Maria Giulia Berti, che non si è persa d'animo. Non trovandolo, ha fatto delle ricerche. Purtroppo ha scoperto la cruda verità. Ed ora si è data da fare per procurargli un funerale e soprattutto una degna sistematone, una dignitosa sistemazione per quanto riguarda la tomba. E dunque i funerali si svolgeranno venerdì prossimo alle 15 a San Paterniano, a seguire la tumulazione al cimitero dell'Olivo, di chi la città lo aveva adottato come un figlio, dunque anche per lui una degna sepoltura, un atto d'amore per uno che non aveva nulla. Giriamo la pagina e vediamo che siamo sempre a Fano, anche se la pagina è quella della Valmetauro. Perché? Perché il campo agrivoltaico di Carrara continua a tenere banco all'attenzione dell'amministrazione comunale. La Regione dà lo stop. Dopo che ha detto no il Comune di Fano, che ha detto no il Comune di Cartoceto, che ha detto no la provincia di Pesaro Urbino, anche la Regione si è dichiarata formalmente contraria alla realizzazione di questo impianto. Lo ha dichiarato ieri l'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi, l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi. E ieri in Comune c'è stata anche una riunione. Ha partecipato Taos, che è il proprietario dei campi che avrebbe dovuto cedere alla società che poi si sarebbe impegnata a realizzare l'impianto. Era stata invitata anche quest'ultima, ma quest'ultima però non è intervenuta. Insomma, ha dato forfè. Probabilmente si affida soltanto alle decisioni del Ministero e quindi non ne vuol sapere di confrontarsi né con il Comune né con la Regione. Insomma, ha un unico obiettivo l'interlocutore ed è il Ministero dell'Innovazione Tecnologica. Breve blackout a San Costanzo e vanno intilti i terminali delle ricevitorie, pagamenti rinviati e tra i clienti il timore di una conseguenza del caro energia. Dunque è bastato uno sbalzo di corrente e i terminali fuori uso ieri mattina sono andati in numerosi esercizi commerciali. Il mini breakout temporaneo per pochi secondi è bastato per mandare in tilt per alcuni minuti l'attività creando disagi parecchi disagi tra gli utenti e negli stessi dipendenti al lavoro nei negozi bar o ricevitorie della cittadina. E si teme che questo sia dovuto anche al caro energia insomma qualcosa non funziona perché sembra che a San Costanzo questa non sia la prima volta che questo disguido che questo problema si verifica e quindi bisogna correre ai ripari. E veniamo alla pagina di Senigallia purtroppo non parte il censimento dei danneggiati perché è per un problema di carattere burocratico ancora un problema di carattere burocratico manca l'ok della regione per i moduli il sindaco Olivetti stiamo incrociando i dati l'autonoma sistemazione riguarda ben 300 cittadini ebbene mentre si è chiuso il censimento degli sfollati non parte quello dei danneggiati manca ancora appunto l'ok della regione per questi moduli che devono essere riempiti a questi dati quelli dei 300 cittadini che hanno subito danni si sommano come sfollati 42 cittadini che soggiornano nell'hotel Le Querce 37 all'hotel Atlantic 14 nelle case di riposo sono circa 400 in totale quindi una cifra considerevole di coloro che hanno subito danni che purtroppo hanno perso al momento la loro abitazione e poi voglio anche segnalarvi quello che si profila a Senigaglia per le prossime festività lampioni spenti ma soltanto a metà a Natale le luminarie fino a mezzanotte insomma i comuni cercano di risparmiare il più possibile perché anche per loro il costo dell'energia elettrica li evita in modo molto molto importante il sindaco ha detto non lasceremo mai la città al buio e il risparmio sarebbe ridicolo i monumenti saranno sempre accesi ma i lampioni saranno a mezzo servizio confermate le luminarie natalizie tuttavia verranno spente a mezzanotte mentre i monumenti restano accesi per dare un segnale di ripresa dopo l'alluvione insomma non si può così rendere opaca una città che deve risorgere che deve riattivarsi per reagire a quanto avvenuto e poi invece a Fabriano abbiamo l'avvertenza della whirlpool la protesta in questo caso entra nel vivo giovedì ci saranno due ore di sciopero a Melano lo stop è un'assemblea pubblica ai sindacati il governo eserciti poteri straordinari e purtroppo ci sono molti molti lavoratori che sono così coinvolti in questa impresa che sta cercando di chiudere i battenti e andare da un'altra parte ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine regionali dove il Corriere Adriatico apre con un incidente una tragedia ci sono due vittime della strada l'auto vola in un canale due morte dopo il lavoro è successo a Serra San Quirico tornavano a casa dal turno dell'elica è accaduto un fuoristrada due donne sono decedute un'altra è ferita in salvo il quarto collega che era nei posti posteriori insieme alla ferita le due decedute sono le due donne che erano nei sedili davanti si trovavano stavano tutti tornando dal lavoro i quattro colleghi dell'azienda elica erano su una Volkswagen Polo grigia metallizzata su cui viaggiavano la macchina sbandato all'improvviso sulla stradina piena di buche e resa viscida dalla pioggia caduta nelle ore precedenti è accaduto in via Sant'Elena una scorciatoia che i quattro conoscevano bene per tornare a casa dal lavoro e lì vicino c'è un canale la macchina infatti ha sobbalzato ed è finita nelle canale purtroppo non ha lasciato scampo l'incidente alle due donne che si trovavano davanti si tratta della 58enne Jesina Cinzia Ceccarelli che era la guida e la 51enne Sabina Cannafoglia di Monsano è rimasta ferita una loro collega che era appunto nei sedili posteriori la 57enne Sabrina Gasparrini è ricoverata all'ospedale di Torrette invece si è mantenuto miracolosamente inleso Matteo Guerri il più giovane un residente a Monsano l'altra pagina è sempre dedicata a questo incidente Cinzia al volante Sabina accanto prigioniere dell'abitacolo a fondo appunto nel torrente e poi diamo subito un'occhiata invece c'è la pagina pesarese dove si parla di queste nuove isole ecologiche di carattere tecnologico che daranno un impulso moderno alla raccolta dei rifiuti rifiuti con le isole bonus per i più bravi e multe a chi pasticcia è il titolo ebbene ieri è stata presentata ufficialmente la nuova raccolta dei rifiuti in centro a Pesaro che archivia il porta a porta e premierà gli utenti più virtuosi e bravi a conferire gli scarti che finiranno tutti nelle isole ecologiche che in questi giorni vengono posizionate in centro è uno sconto in bolletta ovvero più conferisci rifiuti e più paghi meno lo fai e meno paghi quindi anche un metodo più equilibrato appunto di coprire questo servizio da ieri le batterie dei cassonetti intelligenti andranno via via a popolare il perimetro della ZTL compreso tra viale 11 febbraio via Gramsci e via San Francesco che interessa oltre 900 utenze e quali sono in modo particolare le vie più interessate dal 24 ottobre entreranno in funzione le eco-isole di via del Moro via Spada via Bruno via Morselli via delle contramine e via Nobili insomma una innovazione veramente importante per Pesaro in comune il comune in affanno per le maxibollette la luce e il gas sono aumentati del 30% lo sanno bene tutte le famiglie lo sanno bene anche tutti i commercianti tutti gli artigiani che devono gestire le loro aziende e si sono trovate a confrontarsi con delle spese che si sono lievitate assai in questi ultimi tempi questo articolo riguarda il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli che ha convocato la giunta sul caro energia e ha praticato nuovi tagli e strette soprattutto in vista di quello che si profila un altro articolo che riguarda il vecchio Palas ne abbiamo parlato anche nella rassegna stampa di ieri occorre contrarre un nuovo mutuo di 3,3 milioni di euro con il credito sportivo avrà una durata ventennale e servirà a coprire l'investimento completo per le opere mancanti speriamo che sia la risoluzione di un lungo processo lavorativo che insomma ha accumulato molti molti ritardi e qua abbiamo invece una notizia di cronaca si parla di un senegalese di 27 anni che è stato anche scafista è stato condannato però non per aver portato degli immigrati nel nostro paese ma per spaccio di stupefacenti il giudice però gli consente di lavorare è stato scoperto con un bazar nella propria abitazione con un bazar di stupefacenti ne aveva di tutti i colori di tutti i tipi e la 27enne sconterà la pena ai domiciliari con il permesso del giudice di recarsi al lavoro è stato condannato a due anni perché accusato di essere alla guida a suo tempo di uno dei gommoni che trasportavano in Sicilia gli immigrati quindi condanna su condanna e questa è una condanna invece che fa discutere che fa pensare ruba cibo e si fa un panino al market aveva fame era affamato viene sorpreso ed arrestato per rapina lo straniero si è giustificato avevo fame rischia dai 5 ai 10 anni per un importo di 2,67 euro 2,67 euro dai 5 ai 10 anni non leggo oltre perché insomma ogni commento qui si fa da sé comunque l'articolo merita una lettura completa a Durbino c'è la fiera del tartufo anzi diciamo meglio ad Aqualagna c'è la fiera del tartufo dal cuore grande così viene definita la mano tesa a pergole a Cantiano da Aqualagna la ruscella d'oro al paese dei bronzi anche 12 ore di musica nella terra delle viscele ebbene va oltre la solidarietà la 57esima fiera nazionale del tartufo bianco di Aqualagna che concretizza i valori che uniscono il paese di Enrico Mattei ovvero Aqualagna con Cantiano e con Pergola che sono i tre punti nevralgici della produzione del tartufo nel nostro territorio passiamo anche al resto del Carlino dove vediamo che sulla pagina di Fano abbiamo l'apertura che riguarda l'agrivoltaico il campo agrivoltaico lo mettiamo in posizione migliore non sarà Palazzo Chigi a decidere lo abbiamo detto è stato formalizzato anche dalla regione il dissenso già espresso dai comuni di Fano e Cartoceto intanto la società diserta l'incontro con il Comune insomma questo è un fatto un po' antipatico e la società abbia disdegnato diciamo l'invito di giungere in Comune per parlare delle sue intenzioni delle sue mire anche magari cercare di ridurre il progetto insomma fare qualcosa comunque non c'è stata e poi c'è anche qui di spalla una presa di posizione della consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e dice che le Marche la regione Marche deve intervenire per codificare magari le zone dove è possibile installare questi impianti ora c'è molta anarchia in merito a queste cose sì ci sono i piani regolatori ci sono alcune regole ma questo dovrebbe essere ancora ben formalizzato ben studiato e ben organizzato distruggeranno il nostro territorio e la presa di posizione dell'assessore all'ambiente Aguzzi l'assessore regionale parla di scelleratezza e se la prende con la guerra in Ucraina l'ira di Aguzzi due vangi sono meglio di uno Pesaro media ma tira dritto che cosa è accaduto è accaduto che Pesaro e Fano tutti e due hanno l'intenzione di dedicare uno spazio espositivo alle opere di Vangi Pesaro ne ha sono davanti a Palazzo Mosca Fano ne ha sono nei giardini di Piazza Amiani e beh lì c'è la concordia la concordia moderna insomma che dovrebbe fare da contraltare alla statua della fortuna che è in Piazza 20 Settembre ebbene la fondazione Carifano ha in animo di realizzare a Palazzo Vangi un museo di sette stanze per più la corte del Nespolo per risporrere circa 60 opere di Vangi veramente una quantità considerevole ma anche Pesaro ha nelle sue intenzioni l'intento appunto di realizzare di mettere a disposizione 4-5 stanze per le opere di Vangi ebbene Daniele Vimini il vice sindaco di Pesaro conferma la volontà del capoluogo di dedicare ad uno dei maggiori scultori del Novecento quale è Giuliano Vangi il piano terra di Palazzo Mazzolari Mosca sede dei musei civici ma chiarisce che Fano e Pesaro possono collaborare senza alcun motivo di gelosia ebbene sarà un museo diffuso insomma chi vuole vedere le opere di Vangi potrà andare sia a Pesaro che a Fano e poi il resto il Carlino pubblica oggi il risultato del premio letteraria il concorso di letteratura moderna e di traduttori di letteratura straniera che viene organizzato ogni anno a Fano ormai da nove anni l'ultima e la nona edizione si tratta degli scrittori Andreil Andreil Longo e di Anna Mioni Anna Mioni è la traduttrice che ha vinto il premio per la miglior traduzione di un'opera straniera e poi qua invece abbiamo un articolo che merita una particolare attenzione perché riguarda una profonda trasformazione di quello che ora è l'ambito sociale numero 6 l'ambito sociale numero 6 coinvolge nove comuni di cui capofila è quello di Fano ebbene qui c'è una rivoluzione questi questo ambito finirà in una in una organizzazione che è diversa rispetto all'attuale si tratta di una azienda pubblica di servizi alla persona la sua sigla è ASP si tratta di un soggetto nuovo con una personalità giuridica è partecipata dai 6 comuni d'ambito non so perché sono 6 in questo caso una rivoluzione che riguarderà non solo i cittadini ma anche 32 lavoratori che ora lavorano nella stessa azienda quindi una cosa importante una trasformazione di carattere drastica epocale e poi a Durbino ancora un flash mob per reclamare il nuovo vescovo procede la protesta in questo senso ed era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con occhio alla notizia il TG di Fano TV questo è tutto per il momento a risentirci grazie